Il passaggio di Galanda per Wanamaker, il tocco, l'extrapass della schiacciata di Jawan Johnson che arrivava dal lato debole. I tre minuti passati e soltanto tre punti con l'unica tripla messa, signora Gentile, il taglio magistrale sulla riga di fondo dal lato debole di David Moss. Washington è lontanissimo dal pallone preso da Gentile, anche se chiama pallone, non può essere ovviamente servito. Gipson va fino in fondo, c'è il mancato taglia fuori da parte di Melli e in controllo di Denim, che ringrazia, arriva per primo all'appuntamento col pallone. Perfetta circunzione di un movimento tecnico di forza, i chili gli hanno dato vantaggio, qui viceversa, un gesto atletico. 6.20 qui a Palacarrara, Washington! Che schiacciata si porta a casa, Moretti dalla pacchina, lo vedete!